Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I termini temporali sono un elemento vincente e oggi effettivamente tutte le sfide si giocano sul filo del tempo, quindi quello che chiediamo principalmente alle istituzioni è di essere più reattivi proprio per aiutare le aziende da questo punto di vista ad essere coerenti con i programmi che hanno effettuato con l'inserimento delle persone. Per me l'esperienza di garanzia giovani è stata fondamentale per entrare nel mondo del lavoro. Mi ha permesso quindi di fare un'esperienza che è stata sicuramente formativa, dopodiché mi ha aperto le porte a un'azienda come questa. Per me è stato quasi un vero e proprio contratto di lavoro. Non l'ho reputato come un tirocinio ma proprio a tutti gli effetti un contratto di lavoro. Io consiglio a tutti gli effetti garanzia giovani perché molti miei coetanei purtroppo sono dovuti insomma andare via all'estero, non sono più in Campania e invece a me è servito per rimanere qui vicino agli effetti e quindi vicino alla famiglia. Mi ha aperto le porte in un'azienda importante. Questa esperienza mi ha permesso di diventare indipendente. Sono riuscita naturalmente ad avere la mia famiglia, il mio futuro, insomma un matrimonio e quant'altro. Sono felice. Per me è stato molto importante questo tirocinio perché mi ha permesso di partecipare e lavorare con persone molto qualificate perché faccio parte dell'area NO. Dopo questi primi sei mesi mi hanno proposto un prolungamento. Sinceramente me lo aspettavo perché mi sono impegnato sin dall'inizio e poi è sempre stato un sogno lavorare in un'azienda di questo calibro. I ragazzi della mia età oggi non sanno cosa fare, non trovano lavoro, non hanno possibilità. Diciamo che Garanzia Giovani invece mi ha dato questa possibilità e io l'ho presa subito a prima. Posso offrire il caffè a tutti i miei amici, poi non ho problemi, non devo chiedere più soldi ai miei genitori, anzi posso aiutarli, quindi è anche una soddisfazione. Grazie. 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 Grazie.